È una questione calda, anzi bollente a Bassano, quella legata all'ipotesi di trasformazione di decine di ettari di campagna tra San Lazzaro e l'autostrada pedemontana in capannoni, cemento e asfalto. La questione è stata portata all'ultima assai partecipata commissione consigliare urbanistica sollevando ancor più perplessità, dubbi e malcontento. Per non parlare dell'incertezza che suscita il fatto che a oggi non ci sia ancora un progetto ma ci sono invece tante preoccupazioni. Il futuro secondo me è sotto pericolo perché di fatto rimane quasi l'unica area di campagna del comune di Bassano una delle poche aree che è rimasta abbastanza integra, tra l'altro attraversata da molte roggi un'area caratteristica che è testimonianza storica di quello che era fondamentalmente quasi tutto il nostro territorio quindi secondo me quell'area deve andare preservata in ogni maniera possibile. Per contro non voglio essere cieco, ci mancherebbe altro, le esigenze di un tessuto produttivo che grazie a Dio bisogna anche di espandersi che vuol dire che c'è offerta di lavoro e di produzione. Però allora chiedo che la politica non solo Bassano ma anche quella comprensoriale o regionale si metta a parlare con Confindustria ad esempio o comunque con le categorie in cui gli imprenditori sono rappresentati e si trovino soluzioni alternative. Che potrebbero essere tutte quelle strutture, qui capannoni non più utilizzati, abbandonati da anni, da far tornare a vivere. Si comincia a ragionare nel voler accogliere queste esigenze di espansione su zone già antropizzate, già urbanizzate senza dover compromettere quei pochi terreni agricoli che ci sono rimasti che tra l'altro sono anche terreni di ricarica della falda perché poi tutte le gocce di pioggia che non finiscono in falda se ne accorgono la fontaniva in poi e quest'estate temo se ne congerranno in molti.